Si parte il 15 settembre a Pescara Porta Nuova, lato sud, il 15 ottobre in centro, lato nord. Chi ha temuto per il decoro del centro di Pescara in merito all'annunciata raccolta differenziata Porta a Porta non ha tenuto conto delle strategie dell'amministrazione Masci. Non ci saranno mastelli in giro a deturpare la zona pedonale in nessun caso e quei pochi che saranno utilizzati per la raccolta di umido e vetro avranno calendari precisi. La raccolta di plastica indifferenziata e carta prevede l'utilizzo di buste. Sono previste nel piano campane di conferimento distribuite sull'intera zona, circa un centinaio e tre aree di raccolta, ma che non si faccia l'errore di pensare a comuni, isole ecologiche né da un punto di vista estetico né funzionale. Oltre al sistema di apertura informatizzato c'è anche la presenza di un operatore assistente che indirizza l'utente nell'espletamento del suo dovere di buon cittadino. Tre le installazioni, due in centro, di cui una nell'area di Risulta e l'altra a Pescara Porta Nuova. Le politiche ambientaliste a Pescara sono una priorità e l'obiettivo della raccolta, che ha già conquistato il 49,6%, numero ottimo se rapportato a quello della vicina Montesilvano, la continuità territoriale promossa dalla grande Pescara che ferma al 38% circa, è destinato ad alzare l'asticella. Tenere fuori dei mastelli che non spesso purtroppo vengono ritirati quando devono non è bellissimo, quindi abbiamo cercato intanto di andare avanti, non ci siamo fermati, è un segno di civiltà ritengo, ed è quello che la legge peraltro impone, miglioriamo la sostenibilità ambientale ma anche il decoro della nostra città, che andrà a togliere questi cassoni stradali che purtroppo qualche disagio spesso e volentieri lo creano. Altri dettagli verranno resi noti domani alle 15 nella sala consigliare del Comune. Emblematico il titolo dato all'evento per il primo incontro con le associazioni di categoria, La Porta per l'Ambiente.